Dovevo immaginarlo, forse non sono abituata. Ai bastardi? Ai ragazzi. Come? Non hai mai avuto un fidanzato in America? No, mi piaceva un ragazzo ma non è andata. Perché no? Non si è mai accorto di me. Oh, ah sì, questo può essere un problema. Più avanti non posso andare. Al personale è proibito frequentare gli ospiti. Ho faticato tanto per trovare questo lavoro. Saresti nei guai per avermi accompagnata qui? Sì. Ma è ridicolo. Adios. Grazie per avermi accompagnata. Mi dispiace che hai avuto una serata così spiacevole. Non tutta la serata. Ah. Ah. Grazie a tutti